Sapete come si chiama questo quadro e chi lo ha dipinto? Il quadro si chiama L'amor sacro e amor profano ed è un dipinto a olio su tela, 118 x 279 cm, di Tiziano, databile al 1515 circa e conservato nella Galleria Borghese di Roma. Lo stemma sulla fronte del sarcofago ha permesso di legare l'opera alle nozze avvenute nel maggio del 1514 tra il veneziano Niccolò Aurelio, segretario del Consiglio dei Dieci, che nel 1523 sarebbe diventato gran cancelliere di Venezia, e Laura Bagarotto, figlia del giureconsulto Patavino Bertuccio Bagarotto, giustiziato il 1 dicembre 1509 in piazza San Marco con l'accusa di aver tradito la Serenissima al tempo della conquista di Padova da parte dell'imperatore Massimiliano I. Dasburgo nel giugno del 1509.